Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo terzo episodio di Lego Family, no Lego City, no Lego Movie, una cosa del genere E siamo qui come lasciati nel video scorso davanti a questa moto che ora andremo ad utilizzare Ora sicuramente ci sarà un video e io taglierò No vabbè il parkour nel traffico ragazzi No vabbè dai troppo, troppo bisogna cambiare perché bisogna sparare Oh my god Oh my god, c'è non è ancora finito questo livello Ti devo picchiare Ah no devo cambiare, guardate Devo cambiare, devo cambiare Spara, 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 spara E vabbè E lui spinge i pullman Lo chiamavano l'uomo che spingeva i pullman No guardate ragazzi Uno, due, tre E questo è il momento più epico del gioco Come sempre Smonta e rimonta No il trattore era figo Io ce li avevo tutti questi Lego da piccolo Mi sento un bambino quando gioco ai Lego Perché io sono un bambino quando gioco ai Lego Sfiggato di non la piccola E ora E ora E ora E ora E ora Che devo fare? Devo sparare No l'ho uccisa L'ho uccisa Ah no no è lì appesa Lì appesa Sbang 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 Tutta la missione Tutta Tutta Tutto il livello Al cento per cento Tutto Il livello Al cento Per cento Per cento Per cento Per cento Io non so manco se i volumi sono troppo alti Bassi Non so niente Ah 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 Spar Spar Lo speciale Lo speciale Lo speciale Completato tutto il livello Perfetto E quindi E quindi Sì vabbè La donna che camminava sui fili Sta donna è completa C'è tutto La donna salto E vabbè Non ce n'è più Sì Me lo dicevano a me tutti i giorni Sì sì È tutto a posto signore Sto bene Che cazzo Che cazzo Ma perché il mirino Mi ha fatto i suoi Bene Bene No mi stanno sparando Adesso Ah ma lei lancia i missili Eh ma anche quello lancia i missili Oh yes Mi sa tanto che è fuori uso Quell'elicottero Col cavolo È ancora in piedi Vabbè ma lei fa tutto La chiamavano La distruttologa La distruttologa la chiamavano Oh Ah ma può distruggere antimissili Vabbè Allora ditelo però Ora è fuori uso Ancora Che devo fare Eh sì Non è fatto apposta No scherziamo Il trenino abbiamo fatto E mo Eh il camion che si avvicina Logicamente Che belli Sti tir ragazzi Da piccolo Ce l'avevo tutti Ah ma questo non sta seguendo Facceva com'è E mo Beh non faccio niente Che devo fare Ah dovevo farmi saltarla Caccare va Eeeh E te Il ponte ha creato Il ponte ha creato E adesso Finito Ancora Ancora Beh però Adesso sono un po' di più Dai 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 Eh che sono più duri Sono più duri Devo spaccare l'elicotteri no Oh guarda Guarda Questo Questo e questo Che cosa cazzo Aveva costruito E intanto Mi ha sbloccato Pezzo di merda Ah no Emmett Pezzo forte Abbiamo Pasqua Pezzo forte Ema Pasqua Cestino dei rifiuti Wild Style Cappuccio Joe Gerato C'è anche Joe Scallian E tanti bei soldini Per noi Tanti bei soldini Per noi Voilà Qua l'abbiamo fatto 100% 100% 100% 100% 100% E lo speciale Festa estrema Una scatola Livello 2 Ah una scatola C'è la data Perché abbiamo fatto lo speciale Perché 3 di 70 E c'è Il tasto Continua Ragazzi questo video È un po' più corto Degli altri Prima Quando c'è il tasto Continua Quel lampeggio Mi dice di stoppare Perché me lo dice Luke Stoppa E cliccami Cliccami poi stoppa Ma prima stoppa E poi cliccami Ok Ragazzi un bacione Un abbraccio Spero questa serie Vi stai piacendo davvero Perché a me questo gioco Sta realmente appassionando Come lo sono i Lego Fin da piccolo Un bacione Un abbraccio Da Luke E tutto Ciao a tutti